Il Parco Nazionale Cotopaxi in Ecuador è veramente uno dei posti più belli che puoi visitare se sei appassionato di natura, avventura e paesaggi mozzafiato. Situato nella regione andina del paese, il parco è dominato dal maestoso vulcano Cotopaxi, uno dei vulcani attivi più alti del mondo. Ecco alcune ragioni per cui dovresti considerare di visitare il Cotopaxi National Park. 1. Vulcano. Cotopaxi. Il vulcano Cotopaxi è uno dei principali punti focali del parco. Con i suoi 5.197 metri di altezza, è uno dei vulcani attivi più alti al mondo e offre un'opportunità unica per gli escursionisti e gli amanti dell'avventura di scalare fino al suo cratere innevato. 2. Paesaggi spettacolari. Il parco offre paesaggi mozzafiato che vanno dalle praterie alle foreste di montagna e ai ghiacciai. I panorami sono davvero incredibili e offrono molte opportunità per gli amanti della fotografia. 3. Avventura all'aria aperta. Il Cotopaxi National Park è un paradiso per gli amanti delle attività all'aria aperta. Puoi fare escursioni, trekking, mountain bike, equitazione e persino arrampicata su roccia. Le possibilità sono infinite e ci sono sentieri adatti a tutti i livelli di abilità. 4. Flora e fauna uniche. Il parco ospita una vasta gamma di flora e fauna uniche, tra cui specie endemiche e rare. Potresti avvistare condor delle ande, cervi, lupi, puma e molte altre creature affascinanti durante la tua visita. 5. Cultura e tradizione. Oltre alla bellezza naturale, il Cotopaxi National Park offre anche un'opportunità per immergersi nella cultura e nelle tradizioni della popolazione indigena che abita la regione. Puoi visitare comunità locali e imparare di più sulla loro vita quotidiana e sulle loro tradizioni. Prima di visitare il parco, assicurati di pianificare attentamente il tuo viaggio, specialmente se stai pianificando attività come l'escursionismo o l'arrampicata sul vulcano. Rispetta sempre l'ambiente naturale e le regole del parco per contribuire alla sua conservazione e protezione. Buon viaggio!